Ciao ragazzi, due parole, per noi il Modena è tutto quanto, lo viviamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, la vita del Modena e della curva. I ragazzi dell'anno scorso lo sanno, ci siamo sottestati, abbiamo sempre dato il 110% ed è quello che vi chiediamo anche quest'anno e ci siamo soprattutto i ragazzi nuovi, di dare il 110% in capo senza mai avere paura. Noi ci siamo sempre e nei momenti di difficoltà ne veniamo fuori insieme, tutti insieme, da squadra. Modena! Forza! Modena! Forza! Modena! Forza! Modena! Forza! Modena! Forza! Modena! Modena! Forza! 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 Modena! Grazie per la visione! Grazie per la visione!